Vi state chiedendo che cosa ci fanno un cinese, un brasiliano, due italiani e un kebabbaro nello stesso video? Ma ovviamente ProClub! Ragazzi, arriviamo almeno a 10.000 mi piace perché questo video è epico! Dopo le ultime modifiche, FIFA è diventato uno schifo. Sto pensando di passare a PES, ma mi basterebbero solo pochi crediti per costruire la mia squadra ideale. Come posso fare? Aha! Idea! Passa su fifacoin.com e acquista i tuoi crediti a prezzi bassissimi e con il codice Mike è il 5% di sconto, link in descrizione. Salve a tutti ragazzi e bentornati da Mike Shosha, siamo tornati su FIFA 15 pronti per una nuova puntata del ProClub. In compagnia mia c'è tantissima gente, vado in ordine, il Cina! Ciao! Capparella col suo eco? Ma non so neanche a fare eco puttana maiala, salve a tutti! C'è Camper? Hello Motherfucker! Madonna, porca droga! La cattiveria ragazzi oggi, dobbiamo vincere per favore! E' iniziato da 10 secondi, 29 parolacce e Brazzo Crew! E' Brazzo, ciao raga, bella a tutti! Tra l'altro ragazzi sembra un po' una barzelletta, c'è un cinese, un brasiliano, un kebabaro e... Ma non sono un africano! De origine sì, de origine sì! Ragazzi la cosa figa di questo ProClub è che siamo tutti fuori ruolo, io sono un CDC ma oggi, esclusivamente per oggi, giocherò in attacco! Così sbaglierai altri rigori! Ragazzi se volete recuperare l'ultima partita che ho fatto in attacco, ve la lascio qui in descrizione, proprio partite incredibili! Ragazzi c'è fail line in attacco, dove sono io? No è Mike Shusha quello! Mike Shusha? Mike Shusha dove è perfezzi? Dai, guarda, Brazzo Crew, guardami, 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 guardami! Ma dove vai? Passa, Brazzo di Camper, vai! Goal! Ma stai? Brutto maledetto, ma passa tanto! Giocata prelibata di Camper, che è vero ragazzi! Bele! Dislike ragazzi, dislo! Ammassa quanto cazzo cori, oh! Cristiano Ronaldo accelera! Gareth Bale ha messo 100 milioni! Vabbè, è fazzito! Vabbè 1 a 0 ragazzi, dopo 7 minuti, proprio pro! Vai, bravi! No, che cazzo! No! Ma che cazzo! Gliocata difensiva impeccabile da mattina! Ma che cazzo fa? No dai, felainino! No, ma che ha fatto il portiere, regalo! No, vabbè! Perché FIFA è bello! No! Vabbè, ci pensa Mike Shosha, tranquilli! Ma la passo a Cina! Eccolo! L'hai visto? Cose semplici! Boom! Mike Shosha è il pro! Sotto l'incrocio ragazzi, i baffi, i baffi fanno la differenza! Con il mocio filetan testa! Gli ho un po' potento! Gli ho un po' potento! A*****o! Ma la fia! A*****o! 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 Io sono qui ad aspettare! Guarda, Westfield! No, vabbè! Ma che è uno scherzo! No, c'è qualcosa che non fa! No, c'è qualcosa che non fa! No, c'è qualcosa che non fa! Ma che cazzo? Ma hai visto Brazio sulla tua? Mamma mia Mike Shosha, eccolo, eccolo, eh ragazzi! Eccolo! Se lo allunga! Eccolo! Un cazzo imparato! No, commenti i tecnici! Ah, è bravo Brazio! Aspettami Brazio! Guarda a me! Vabbè, regalo! Eccolo! Eccolo! Vedi? Che coatto! L'ho presa, non te ne preoccupa! Dentro, dentro, dentro! Ooooooooh! Eheheheh! Eheheheh! Borone! Raga, se andiamo così da sinistro, dopo, cioè, mi davano il pallone d'oro, cioè! Guarda come taglio il K, guarda come taglio il K, K! Oh, guarda in mezzo, 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 guarda in mezzo! Guarda in mezzo! Toh! Prozzo che... Ma perché? Ma siete in 5! Scoglione! Guardalo lì, guardalo largo il biondino! Passa qua! Oh, no! Mamma mia! Oh, rega che me lo vendo, K! Guarda il peggio di Matuidi, K! Mamma mia! Ragazzi, vedo già delle cose brutte! Guarda sto, guarda sto cabellone! Nooo! Madonna, però siamo venuti un po' scarci! È colpa di K! Lo sapevo, lo sapevo! Mamma mia, siamo venuti un po' scarci lì dietro! Ma se in 5 non riuscirà a colpire una palla in aria! Ma se la passi prima! Ma se la passi col culo! Io do una munizione a K, la prossima si è fuori eh! Ecco! Eh, vabbè, vabbè, noi continuiamo, il nostro capitano rimarrà nei nostri cuori e segnerò per lui! In quale film? Eh, dobbiamo vincere! Sei come in Zaghi, in fuorigioco! Mamma mia! Il karma bc sempre! Il karma bc sempre! Il karma bc sempre! Provi con le manate! Provi con le manate! Io sono basso! Schema Camperigno! Non proprio! Porco cane! Rigore! Rigore ragazzi! L'ho preso io! L'ho preso io! Ragazzi! Ho l'opportunità di rifarmi! L'ho preso io il rigore! Sono tutto sport! Grazie Moreno! Guarda quel portiere! Metto! 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 Eccolo! Eccolo! Ringraziami Mike! Mike sei troppo brutto però! Vedi ragazzi! Sta passando anche! Mike rigore! Due punti! Il ritorno! Ragazzi! L'ultima volta! Non è andata benissimo! Stai buono! Stai buono! Stai buono! Stai buono! Stai buono! Non sbagli a due volte ragazzi! Guarda come vai! Guarda! 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 ragazzi sono stato grazie Gesù un miracolo doppietta ragazzi cioè qua ragazzi ve lo dico qua ragazzi 10.000 mi piace qua ragazzi 10.000 mi piace i miracoli esistono tieni prendi questa palla e vai a segnare vai cina vuoi sbagliare? vai cinese ma noi ci hai messo davanti ma chi è? con i capelli magnifici vai bravo eh tu cazzo vado c'ho due depressioni c'ho una volagra brazo oh regà mi devi dare da palla devo segnare devo fare la tripletta che cazzo fai attenzione già lo sto ma chi è sto stupido ragazzi ma chi è sto stupido ragazzi sto russo bevi vodka guardalo mangiare bambini vai brazo apri apri così fa corrente ahahah 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 ahahahahah passatevi la mano che ci penso io cazzo dai dai stiamo tra due esci portiere esci portiere dai dai faccio l'ultimo stato è finita Italia le classiche esultanze pagate del campo man of the match man of the match doppietta anche il rigore segnato e vincono il campionato campionato io sono i campionati del mondo e quindi ragazzi ce l'abbiamo fatta sembrava impossibile con una squadra veramente scandalosa sembrava l'inizio di una barzelletta io dico almeno 10.000 mi piace da non arrivare perchè è stata una partita epica il più caso il più caso cosa è diventato youtube una giungla caso è diventata è ormai andata quindi ragazzi io vi invito a lasciare un bel mi piace fateci sapere se volete altre puntate di questo tipo sicuramente verranno perchè il pro club è figo io ringrazio in ordine il cina bella raga grazie a te saluto il capparella che oggi incredibilmente ha anche fatto qualche assist quindi applausi ti avrebbe mai detto se può anche passare saluto camper che non era al 100% grazie a tutti ragazzi è stato un onore partecipare a questo torneo incredibile vittoria campioni del mondo saluto brazzo crew bella grazie a te che ricordiamo è anche il capo di youtube brasil un saluto a tutti da make show ciao ragazzi ciao ciao